Poi referente per i nostri referenti, per la nostra segreteria, in maniera da poter avere in tempi brevi e facilmente, poi anche nel tempo, chiaramente, di poterle ritornare. Per evitare tanti errori, io vi farei vedere quante lettere tornano indietro. Lasciamo perdere i costi banali di una lettera che viene spedita.